Perché si chiama Gruz, Gabriella. Ok, stiamo a comprare una pista. Andate, andate. No, Ale, vai avanti te così te recupero. Esatto. Dai, guarda. No, perché poi io mi incollo la gente. Chiara. Chiara. Tornata wire coupare in arrivo. Chiara. Quiet Sport, eccociadine. Chiara. Chiara. Finita. QuiCloud. Grazie a tutti. 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 Dov'è continuare giù. Eh, vai. Però aspettiamo almeno Gianluca. Giù, giù di là. A sinistra. Tu hai preso gli schibassi. Che vuol dire? Eccolo, Gianluca. Eccolo. Va, andiamo. Andiamo. Ehi, giù. 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 No, buono dove è? Grazie. Ci sei? Grazie.